Un saluto a tutti. Meditazione e interiorità è il titolo di un percorso intenso e impegnativo che vogliamo affrontare con un obiettivo ben preciso, cioè educare la coscienza. Una meta esigente che consideriamo educativa proprio in quanto c'è uno stretto rapporto tra meditazione ed educazione e che intendiamo raggiungere approfondendo il tema della relazione tra la meditazione e l'interiorità umana. Cosa metteremo in campo? Innanzitutto l'oggetto e cioè la meditazione. Mi chiederete quale? Cristiana, quella orientale, quella filosofica? Avremo modo di affrontare questi tre filoni secondo le loro tradizioni e i contenuti specifici, ma l'invito è quello di seguire il nostro percorso durante il quale scoprirete che per educare la coscienza proponiamo la meditazione intesa come prassi veramente umana. Ciò significa che riguarda l'uomo, tutti gli uomini di ogni età, religione, condizione sociale e anche professione. Il contenuto, e cioè l'importanza della meditazione e la sua struttura psicologica. Il metodo, e cioè come meditare, indicando concretamente le modalità dell'attività del meditare. E infine il soggetto, abbiamo l'oggetto, abbiamo il contenuto, abbiamo il metodo, ma il cuore dell'atto meditativo è l'uomo visto nella sua totalità. Il soggetto che entra in relazione con se stesso e con la realtà. È di fondamentale importanza quindi per parlare di educazione, di meditazione, di interiorità e di coscienza mettere in gioco una precisa visione antropologica. Per questo motivo è necessario aprire la nostra riflessione con uno sguardo al rapporto tra la meditazione e l'uomo moderno. Nostro punto di partenza è un insigne pedagogista italiano e profondo studioso, vissuto tra il 1857 e il 1943, purtroppo dimenticato dalla cultura e dagli intellettuali del tempo. Sto parlando di Giovanni Antonio Colozza. Questi configura in una forma più ampia la disciplina della pedagogia con il termine psicagogia, che considera l'educazione parte integrante di tutta la vita. L'uomo infatti è visto in continua formazione. Il Colozza scrive in un suo lavoro di appunti di psicagogia a riguardo proprio del tema della meditazione. Una gioventù educata a vivere non d'altro che di ciò che viene dal di fuori, allorché poi libera di sé entrerà nella vita, continuerà ad essere attratta per l'abito acquisito dai più insignificanti avvenimenti del mondo esteriore. Non è positivismo, ma deplorevole leggerezza e superficialità imperdonabile restare sempre alla periferia, senza poter mai penetrare sin all'asse della propria esistenza. Giovanni Antonio Colozza scrive queste righe nel 1903 in un testo fondamentale per noi, dal titolo La meditazione, appunti di psicagogia. La sua posizione è quella di criticare l'educazione del tempo fondata sulla ricezione passiva dei fatti che avvengono alla periferia dello spirito. Un'educazione che considera gli oggetti esterni come l'esclusivo centro degli interessi umani. Ma non è così. Occorre invece penetrare nell'asse della propria esistenza, dice il Colozza. Perciò il nostro autore, al fine di conquistare una maggiore interiorità, ripropone in forma laica e sulla scia della tradizione religiosa il tema della necessità e del valore educativo della meditazione. Questo sarà l'argomento delle nostre riflessioni, le quali tenteranno di indicare come meditare, di approfondire la struttura della meditazione, la sua importanza secondo la funzione educativa. L'obiettivo, come già detto, è quello di educare la coscienza. Ma se nel 1903 il Colozza ha rilevato, come abbiamo visto, che la meditazione non era di moda per motivi scientifico-positivisti, nel 1955 Dante Morando, nel suo volume, che ci accompagnerà per tutte le nostre riflessioni dal titolo Studi sulla meditazione e sul suo valore psicopedagogico, afferma che sia in un'epoca in cui il meditare non gode davvero maggior favore. Infatti, ai nostri giorni, al culto dell'oggetto esteriore, alla passività spirituale, si è sostituito il culto del soggetto che fa per fare, per semplice impulso o per motivi puramente estetici, e l'attivismo dinamico dell'agire, del creare e del dominare. Tutto, quindi, si risolve in una filosofia dell'azione. È la febbre dell'azione che ha il sopravvento in ogni settore. Al contrario, c'è la visione biblica, il comandamento biblico che dice, sei giorni lavorerai e attenderai ad ogni tua faccenda, ma il settimo è il giorno del Signore tuo Dio. Non farai in esso lavoro alcuno. Ebbene, questo comandamento intendeva favorire certamente il tempo e lo spazio per la meditazione. Dopo essere stato assorbito dagli impegni quotidiani, l'uomo era invitato, chiaramente, un giorno su sette a pensare ad altre cose, a raccogliersi in preghiera, a meditare sull'aldilà, sulla giustizia umana e divina, sul valore assoluto e relativo della sua opera, e così acquistava, chiaramente, coscienza della sua appartenenza alla societas humani generis. Quindi, il riposo, visto come un tempo attraverso il quale educare la coscienza, una pausa per puntare l'attenzione sui temi dello spirito, ciò rendeva l'uomo presente a se stesso, posto di fronte alla sua coscienza. Ma l'uomo moderno, sostiene il morando, non sa prendersi una vacanza, perché ha l'ambizione che per stare al passo coi tempi debba essere infaticabile, dinamico, insonne. Questa è la sua pessima regola di vita, che lo agita esteriormente, ma lo svuota e non lo impegna interiormente. L'uomo moderno non ha tempo per riflettere e meditare. Così, tutto è lasciato in balia degli istinti e degli impulsi che lo consegnano le pure sensazioni, privandolo della sua maturità. L'uomo moderno, però, è tutt'altro che attivo. È un uomo passivo, perché indietreggia di fronte agli sforzi utili e necessari alla costruzione della sua personalità. È anche capace di raccoglimento, incapace di raccoglimento interiore, poiché la sua attività, che è solo apparente, manca soprattutto della libera, cosciente e intima adesione dell'io. Il morando sostiene che anche gli anni 50, quindi, non siano tempi propizi alla meditazione, dal momento che l'agitazione ha il sopravvento. Ma ciò non significa che il meditare sia considerato un dolce far niente. Al contrario, è guardare dentro di sé, è attività, lavoro che impegna e forse anche spaventa. Questo è il vero motivo che spinge a preferire il divertimento per dimenticarsi e per fuggire, soprattutto di fronte a quell'abisso del proprio nulla morale. Meditare, invece, è realizzare un lavoro che annoia, in quanto è duro, difficile, profondo, intimo, più di ogni altra attività. Se l'uomo è nato per l'azione, è chiaro che l'ozio non piace a nessuno. È così insopportabile che chi si riposa vuol sempre far qualche cosa per occupare il tempo. Il vuoto logora, ma se non si sceglie la meditazione, non è perché essa sia riposo assoluto, ozio, bensì perché questo costa fatica, perché richiede impegno dal punto di vista intellettuale e morale. Non si sceglie l'ozio perché fa pensare a se stessi e ugualmente non si considera la meditazione perché è faticosa. Quindi si opta per un altro genere di svago. Però, dice Pascal, sopprimete il loro svago e li vedrete consumarsi di noia. Allora sentono il nulla, pur senza conoscerlo, perché è veramente un'infelicità il trovarsi in una tristezza appena si è ridotti a considerare se stessi senza esserne distratti. È dunque meglio evitare il meditare e darsi all'agitazione e al divertimento. Sempre Pascal afferma la preoccupazione dei cortigiani è di divertire il re e di impedirgli di pensare a se stesso, poiché per quanto sia re è infelice se egli ci pensa. Se questo è l'uomo moderno, visto soprattutto dal Morando, dentro il suo contesto sociale e culturale in rapporto all'attività meditativa, vale a dire ad un'azione che riguarda la sua interiorità, ci chiediamo come è visto l'uomo contemporaneo. Apriamo qui un altro quadro. Per dare soprattutto un contributo maggiore al nostro approfondimento. Gli studi sociologici ci dicono che la configurazione sociale sta assumendo una nuova tendenza verso la frammentazione, che punta ad articolare, specializzare, differenziare, distinguere. L'autore, che ha intuito il senso delle trasformazioni, è Zygmunt Bauman, con la sua definizione di società liquida, che coglie lo scioglimento di tutto ciò che aveva una sua consistenza. Ebbene, egli mette a tema la fondamentale instabilità delle forme sociali, riferita ad un fenomeno trasversale che si produce su un piano epistemologico, quindi della conoscenza sociale delle relazioni, e antropologica sull'uomo. Se si vuole parlare di contemporaneità, questi tre aspetti non possono essere disgiunti. E la logica della frammentazione costituisce la chiave per cogliere le reciproche connessioni con le loro implicazioni. Il processo di questa frammentazione si spinge fino al punto da ingenerare la diffusa percezione di trovarsi davanti a delle perdite, perdite di significati comuni e sufficientemente stabili. Perdita delle relazioni, dei gruppi, perdita persino dell'individuo. La prossima volta continuiamo. Grazie.